Sono ritenuti dagli inquirenti responsabili di rapina i danni di minori, per questo un 19enne e due minori sono stati denunciati. Il 19enne è stato destinatario anche di un'ordinanza di obbligo di dimora. Le indagini portate avanti dalla squadra mobile della questura di Arezzo diretta da Sergio Leo hanno riguardato una serie di rapine commesse nei confronti di minorenni nel centro storico di Arezzo nelle ore serali dello scorso 20 gennaio. In particolare, fanno sapere gli inquirenti, sono stati individuati gli autori di quattro episodi grazie alle testimonianze delle vittime e alle immagini di videosorveglianza. I tre, solitamente insieme, avvicinavano le loro vittime tutte minorenni chiedendo loro di consegnare capi di vestiario o soldi. In alcuni casi alla risposta negativa veniva usata violenza fisica. Tre delle quattro rapine sono state commesse secondo le indagini in concorso, mentre un singolo episodio sarebbe da addibitare solo al 19enne. Durante le perquisizioni domiciliari sono stati ritrovati alcuni oggetti rubati alle vittime, tra questi un paio di scarpe. Nei telefoni cellulari gli inquirenti hanno invece ritrovato dei video in cui i tre si ritraevano dopo aver commesso i reati. Sono stati tutti denunciati e il 19enne è stato anche destinatario della misura cautelare dell'obbligo di dimora.